Grazie a tutti. 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 Voi dite noi dobbiamo portare fatti, il nostro ruolo è questo e non limitarci a contrastare le idee degli altri e quindi l'azione del governo regionale. Ci può fare qualche esempio di qualcosa che se fosse stato accolto il vostro invito su questa linea si sarebbe potuto realizzare anche che riguarda il nostro territorio? In generale i punti che riguardano il nostro programma, quelli più importanti riguardano la riorganizzazione della pubblica amministrazione. Io uno per tutti per me, il punto fondamentale è l'acqua pubblica, un riordino del sistema dei rifiuti sicuramente è l'occasione per portarla avanti e anche quelle piccole riforme che riguardano un po' i territori. Ora l'occasione è quella di sedersi attorno al tavolo, di discutere di temi, sottoscrivere, non dico una sorta di contratto ma cominciare a discutere, a parlare di politica affinché sui temi quelli più importanti del paese, della nostra regione, noi possiamo anche dire la nostra. L'opposizione non può limitarsi soltanto a dire no a qualsiasi cosa ma sicuramente è importante farsi sentire e recuperare anche risposte per il territorio. Noi siamo stati eletti per portare risposte e non per dire no a qualsiasi cosa, questo lo ribadisco in tutte le salse. Un mio collega qualche giorno fa dice che noi siamo stati eletti per fare opposizione e non per portare a casa risultati. Io la penso esattamente il contrario ed è uno dei motivi per il quale ho dovuto fare questa scelta, per me molto sofferta, ripeto, ma necessaria a questo punto. A proposito dei risultati, un'ultima domanda che riguarda proprio Sciacca. Oggi in questa bella domenica a Sciacca c'è un po' di gente in giro, però se si arriva alla zona portuale si vede una situazione di degrado enorme, se si osserva la scalinata che collega la piazza Scandaleato con la zona portuale, proprio il cuore del centro della città, la zona dove arriveranno, ci auguriamo tra qualche giorno, i turisti, oltre che una zona molto frequentata dai saccensi, è sporca e con tante erbacce. Lei anche chiaramente non svolge un ruolo amministrativo a Sciacca, ma come commenta questo? Allora, purtroppo il coronavirus doveva insegnarci molto da un punto di vista ambientale, non ha ancora lasciato nelle menti di chi doveva fare le giuste osservazioni, quelle che sono delle situazioni che invece dovevano essere gestite diversamente. Io penso e credo che bisogna fare un esame di coscienza a tutti noi e cominciare a rispettare quello che è l'ambiente. Se questo non avviene bisogna incentivare i controlli e sicuramente punire i responsabili di quello che sta accadendo. Non è giusto, ok, l'amministrazione deve fare la sua parte nel senso che deve provvedere alla pulizia, ma se i cittadini non rispettano quello che è il contesto ambientale, la nostra città è come se fosse la nostra casa, e quindi i luoghi comuni sono praticamente i luoghi in cui a casa abbiamo il salotto, il giardino e non penso che lo teniamo in questa maniera. Quindi una riflessione ci vuole, le immagini che circolano in questi giorni sono forti perché ci riportano alla realtà, ma è un momento in cui dobbiamo riflettere e quindi ritornare un pochettino al rispetto per noi stessi e per l'ambiente.